Premier Key Award. Premier Key Award è un premio speciale assegnato al miglior spot andato in onda tra il 1 luglio 2008 e il 30 settembre 2008, ovvero oltre la data limite per il Key Award. Invitiamo sul palco l'ex copywriter, attualmente home garden supervisor, Pasquale Barbella. Buonasera Barbella. Dice ex copywriter, attualmente home garden supervisor, home garden, dice lei giardiniere. Sì, è una promozione. Ah, quindi lei giardiniere, quindi diciamo che tra una potatura e l'altra si occupa anche di pubblicità e scrive libri, no? Sì, tra una potatura e l'altra. Ho scritto anche un libro sui giardini quando mi occupavo di pubblicità e adesso che mi occupo di giardinaggio ho scritto invece un libro sulla pubblicità, che si intitola, posso fare un po' di reclamo, dopo poter essere un pubblicitario, Confessione di una macchina per scrivere, molto bello, leggetelo. Confessione di una macchina per scrivere? Per scrivere. Per scrivere. Sì, sì, per scrivere. Va bene, va benissimo, abbiamo, ok. Se fossimo in televisione lo farei anche vedere, non ci sarebbe lo zoom. Facciamo finta che abbia qui, ecco, vediamo, vogliamo vedere la copertina? Ecco, fai a vedere, ecco, ecco. Benissimo, allora, allora, vogliamo vedere subito il winner? Vediamolo, dai. Qui non ci sono nomination. Non ci sono nomination. Dobbiamo aprire la busta e scoprire il nome del vincitore. Sì. Prima di vederlo? Prima di vederlo. Caspita, il thriller è andato un po' in bacca. Il winner è Conserve Italia, Cirio, Tengo Corre Italiano. Conserve Italiano, Cirio, Tengo Corre Italiano. Vediamo allora... Ed eccoci ad invitare sul palco per la premiazione il cliente che è Conserve Italia. Ritira la scultura il direttore marketing Paolo Gerevini. Il diploma viene ritirato dal marketing manager Stefania Costa. Per l'agenzia Silvano Guidone e Associati ritira il diploma il presidente Silvano Guidone. Per la casa di produzione, che è la Little Bull, ritira il diploma la producer Claudia Elisei. Grazie, grazie, buonasera, complimenti. Grazie.